A presto! un figlio Vi prego, perdonatemi Non l'ho già visto, ma che cosa? Non l'ho già visto, ma che cosa? Non la popolazione, potresti corromperli così che parlino d'altro O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico Hanno venduto la propria dignità, nessuno ne piangerà la scomparsa Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà Questa barretta ti aiuterà a capire a che punto sei tra notorio e incontro Dovrebbe aiutarti a capire se devi controllare le tue azioni Ti dirà anche se il livello di notorietà dipende da Ezio o da te Ho giù l'ho già visto... Non ci vuole di farlo? Mi bai che cos'è la mia vita? Ti dirò che si fa? Ma che sei la mia vita? Ti dirò che cosa? Ti dirò che dovrebbe aiutare il Ti dirò che vuoi? Ti dirò che vuoi? Ti dirò che vuoi? Ehm... Non esiste una legge che per servire Affascinante Perché non mi ne basta Perdonatemi messere, non volevo arreccare di offesa Perdonatemi messere, non volevo arreccare di offesa Perdonatemi messere Cosa c'è? Cosa c'è? 전..moha 역사재료는 뭐지? 저건 수집요소인가? Non voglio più sapere! Se non altro deve aver bevuto vino di qualità. Soccola, ok? Siamo uniti, non ci batti. Tento mancata? Diavolo! È mai impossibile! Mai un giorno di qui... Domando scusate, entro al centro a sacco. Ma che cosa... È qui! Sì! 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 ... ... ... ... ... ... qui lo farò? ... ... che ci sono un po' che ci sono un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' oh 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 qui si è arrivato a tornare a pensare? A presto. Sì . 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 La cosquilla di noi Va bene. Seine le catture ci sono Si trainedo adesso Si arriva già e qualcosa non c'è E' E' O O O O O O O O E questo è ilusszione della fed shackura che non ha messo mai Hermani però l'unico che non è praticamente Ha CGIball, 50% ne sono già messi è il topo ci c'è un po' che c'è un po' che c'è? non ciò cheii ha ilākino? che c'è paura qui c'è qui c'è il rispidio che c'è il rispidio ma questa è la rispidio come faccio c'è questo passo il rispidio dentro e questo è c'è il rispidio è va cool le vostre azioni non saranno male se il dio vi protegga, signore non cediamo! non cediamo! non cediamo! not cediamo! non cediamo! ... Quindi ciò che c'è il vostro rispetto a questo tipo di traccio. Si, il vostro rispetto a questo tipo di scelto. Il vostro rispetto a questo tipo di scelto, Il vostro rispetto a questo tipo di scelto che è stata fatta dopo aver visto che il vostro rispetto alla fine. Non lo so, non lo so Quindi, a lì, a lì, a lì, a lì come şimdi. ... ... ... ... ... ... ... ... se vuoi in una zona di giovane che mi ha avuto giù si sono iniziato a fare una squadra di giovane ah ahci 떨어�z tenerla è ahci 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 Non servono solo Alle che stai insieme è qualcosa di quattro vastico stai ne pari りました perchè non raccoglie La macchega che stai viet ha? Grazie a tutti. 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 Batto chiunque nel distritto, ma ho sentito che saresti tu il migliore. Allora provalo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh... Oh Uh, I cannot use Russian, so please use English if you want to talk to me. I cannot use Russian. I only can't just rest of it. I'll show you. Sì, sì, sì. Sì, è vero, è vero. ... 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 Sì, non è vero. Mi figlia di mio figlio è scenduto. Lo sapevo e lo sapevo tutto il vicino. D'accordo, dà te una lezione. Certo, è che il suo padre che fai una cosa che diceva. Avanti, non siate timidi! Voglio solo aiutarvi! Portate qui i malati e i feriti! Qu'è? Odi? Odi? Voglio restarne fuori Voglio restarne fuori 가정의 평화를 지켰습니다 자 다시 그 원래 퀘스트 깨는 곳으로 합시다 가정의 평화를 지켰습니다 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 Oh, molto vicino. nato Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? bene. Ti spiace padare a nostra madre. Allora siamo pronti. Grazie di nuovo. Di tutto. Sta in guardia, Ezio. Sì, Cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. Ho via seo? Sì va. Non c'è niente per te qui. Ho, con me. Fermi. Bonit. Non c'è niente per te. Non c'è niente per te... ...i niente non sono più di un po' di non prendere... ...i un po' di non prendere... ...i un po' di non prendere... ...i non prendere... portate all'errore non avete un po' di decenza messero ho lavorato duramente e poi avete accettato al mezzo il mio guadagno il mio guadagno il mio guadagno il mio guadagno i non so non lo so Non lo so Sì, 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 sì. Non manca molto. Grazie a Dio. Andiamo. Ja, 계속 후회합니다. Sì, 영상 끊죠.